Ciao, sono Marco Grassi. Tre parole per definire la mia arte immediata, non finita, acida. La proposta per il Contemporary si intitola Girl Save the Pink ed è tutta incentrata intorno alla ricerca intorno al corpo. Quello che io cerco non è la volgarità, ma di esprimere una certa sensualità attraverso un gesto, uno stato d'anima, una sensazione, una posizione più o meno erotica di una persona. Se volete sapere di più su di me, Marco Grassi di Grama su Facebook. Ciao! Ciao!